Buongiorno, ci troviamo qui in presenza del professor Roberto Camussi, docente in Ingegneria Meccanica e Aeronautica. Per parlare dei suoi insegnamenti. Professore, lei insegna fluidinamica alla Ingegneria Meccanica. Potrebbe, per favore, introducela? Sì, questo è un corso della laurea triennale di Ingegneria Meccanica che viene offerto al secondo anno. Quindi è di fatto un corso di base, come tutti gli altri corsi della triennale, in particolare dei primi anni, però è un corso dove gli studenti cominciano a vedere dei primi aspetti un pochino più applicativi e di interesse, diciamo così, per l'ingegnere meccanico. Fermo restando che anche in questo corso c'è una parte, soprattutto iniziale, abbastanza teorica perché devono essere fornite le equazioni di governo del moto dei fluidi, ma poi ci sono degli aspetti un pochino più applicativi, che sono un pochino più anche di interesse per gli studenti, quindi si andrà a parlare anche di flussi, per fare qualche esempio, flussi ad altissima velocità, flussi supersonici o addirittura all'opposto, flussi lentissimi, per esempio per problemi di lubrificazione, quindi qualcosa finalmente dopo il primo anno faticoso dietro a formule e a concetti molto teorici si cominciano a vedere anche cose un pochino più applicative. È un corso abbastanza tosto, però appunto viene normalmente considerato interessante, è condito con attività extra, almeno normalmente invito persone, ricercatori, ingegneri di aziende esterne a fare dei seminari, e poi se si riesce organizzo anche delle visite didattiche, in genere andiamo all'INM, che è l'Istituto di Ingegneria del Mare del CNR, che sta vicino a Roma 3, zona Spinaceto, molto interessante, ci sono degli impianti, delle vasche navali molto interessanti, e in genere porto poi gli studenti a visitare all'Enea, Casaccia, zona Anguillara, la Galleria del Vento, che è un impianto molto bello, molto interessante, che noi cogestiamo ed è un primo assaggio per gli studenti di qualcosa di un pochino più sperimentale, che è sempre molto interessante, cose che poi vedranno negli anni successivi. Grazie professore. Potrebbe ora dirci qualcosa sulla sua attività di ricerca? Sì, noi siamo un gruppo di ricerca abbastanza corposo innanzitutto, io coordino un gruppo in cui c'è un ricercatore, un tecnico laureato, vari collaboratori assegnisti di ricerca, postdoc, studenti di dottorato, e più un bel gruppo di tesisti, sia di magistrale che di triannale. Il nostro, chiamiamolo core business, è soprattutto sulla fluidodinamica sperimentale, infatti abbiamo un bel laboratorio con delle faciliti abbastanza interessanti, abbiamo una camera anecoica, per esempio, dove facciamo test di rumore, e una canaletta d'acqua, una piccola galleria del vento. L'attività principale che noi svolgiamo è sul rumore di aerei, questo è legato a tutta una serie di progetti che noi abbiamo, soprattutto con la comunità europea, in questo momento abbiamo tre progetti europei, uno lo coordiniamo noi, lo coordino io, è un progetto da 2 milioni e mezzo di euro, che appunto vede studi soprattutto sul problema del rumore, sia di propulsori, chiamiamoli convenzionali, di aerei, che di eliche, elichette di droni, eliche utilizzate negli aerotaxi e altre configurazioni un pochino più innovative. È un'attività, questa nostra di ricerca, molto correlata, molto legata all'attività didattica, infatti i nostri collaboratori sono quasi tutti studenti che abbiamo cresciuto noi, diciamo, quasi dalla triennale, poi hanno fatto la magistrale di aeronautica, poi hanno fatto la tesi con noi, dottorato, e alcuni sono diventati ricercatori, quindi c'è una grande opportunità anche per gli studenti di entrare anche nel vivo delle nostre attività di ricerca, anzi questa è un'attività che noi svolgiamo con molto interesse e con molta forza proprio per far vedere poi agli studenti quello che si fa nella vita normale al di fuori dell'università. Grazie professore, ora vorrevo chiederle un'ultima cosa, ha per caso dei suggerimenti verso studenti che sono intenzionati a entrare nel nostro triennale di ingegneria? Beh, la nostra offerta, diciamo, ha secondo me il grosso punto di forza nel fatto che è un'offerta ad ampio spettro, cioè in particolare l'ingegneria meccanica ha un piano formativo che copre tutte le competenze più importanti che poi rappresentano la base su cui costruire le competenze più specialistiche che si acquisiscono soprattutto attraverso lauree magistrali. Le competenze acquisite nella laurea triennale di ingegneria meccanica sono quelle classiche dell'ingegnere meccanico ed infatti i nostri studenti, che sono molto numerosi e che si laureano nella triennale, poi hanno tantissime possibilità di proseguire i loro studi negli ambiti anche più disparati, cioè non è detto che la prosecuzione sia obbligatoriamente quella che riguarda esclusivamente l'ingegneria meccanica, ma già noi offriamo diverse lauree, per esempio la laurea magistrale, intendo per esempio l'aeronautica, ma si può fare ingegneria biomedica, si può andare sulla gestionale e tante altre offerte che ci sono a livello nazionale, ma anche internazionale. Questo è un aspetto importante. Ragazzi, preparatevi sull'inglese, perché la preparazione di base dell'università italiana è molto forte, molto importante, ed è molto apprezzata all'estero, quindi siete sul mercato, ma non solo un mercato regionale o locale, o nazionale, ma internazionale. Siete molto apprezzati e quindi ci sono tante occasioni interessanti che si possono cogliere, non solo a livello di stipendio, ma non lo so nemmeno a dire, ma anche come tipologie di lavoro e di ulteriore formazione. Grazie professore, in particolare grazie per il suo tempo. Per quelli che stanno guardando, link, descrizione e altre informazioni sono appunto in descrizione.